ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale oggi vedremo insieme come lavorare il punto basso o maglia bassa eseguiamo le catenelle ne facciamo 10 se non avete visto il video su come si realizzano le catenelle vi lascio il link in descrizione ne facciamo 10 e contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 l'anello che si trova sull'uncinetto non lo contiamo come punto per iniziare il primo giro di punto basso o maglia bassa dobbiamo lavorare una catenella quindi in questo caso saranno 11 ma che non andrà contata perché servirà solamente per stabilire l'altezza quindi iniziamo a lavorare dalla seconda catenella quindi da questa qui come si esegue il punto basso entriamo nella catenella con l'uncinetto in questo modo gettiamo il filo sull'uncinetto così portiamo fuori in questo caso abbiamo due punti sull'uncinetto rigettiamo il filo di nuovo sull'uncinetto e lo facciamo passare attraverso queste due asolini e questo è il primo punto basso facciamolo ancora insieme inserisco l'uncinetto nella catenella successiva prendo il filo che va al gomitolo tiro fuori e trovo due anellini sull'uncinetto riprendo il filo e tiro fuori da entrambi gli anellini e questo è un altro punto basso e procediamo così fino alla fine del giro arrivati all'ultimo punto andrò lavorato anche questo perché è comunque una catenella quindi inseriamo di nuovo l'uncinetto nella catenella agganciamo il filo e lo tiriamo fuori ho due archetti sull'uncinetto riaggancio il filo e tiro fuori da tutti e due gli archetti e questa è la nostra prima riga di maglie basse se vedete bene la maglia bassa è formata da queste catenelle qui in alto e da una specie di v qui vedete le prime volte vi consiglio sempre di contare se effettivamente ne avete realizzate 10 quindi contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 per procedere con la seconda riga di maglie basse facciamo una catenella che non conteremo ma che servirà solamente per la stessa giriamo il lavoro entriamo con l'uncinetto in questo punto tra le due maglie che vi ho fatto vedere prima vedete entrare in questo punto di nuovo prendete il filo lo gettate fuori ho due fili due archetti sull'uncinetto riprendo il filo e lo faccio passare attraverso i due archetti e ecco la mia maglia bassa ancora inserisco l'uncinetto qui in questo punto qui in questo punto tra le due catenelle prendo il filo lo aggancio un tiro fuori ho due archetti sull'uncinetto riprendo di nuovo il filo e lo faccio passare attraverso i due archetti ancora aggancio il filo in questo modo nella catenella prendo il filo lo tiro fuori ho due archetti sull'uncinetto riprendo il filo e di nuovo lo faccio passare attraverso i due archetti e questi sono le mie maglie basse facciamo un altro giro sempre iniziando con la catenella che servirà per l'alzata giriamo il lavoro il filo va portato sempre indietro e nel rovescio del lavoro troveremo questo vedete viene una specie di v rovesciata e questa questo filino qui quindi sul rovescio del lavoro partiremo sempre dalla prima maglia quindi inseriamo l'uncinetto nella prima maglia agganciamo il filo lo tiriamo fuori e troveremo i soliti due archetti sull'uncinetto riagganciamo il filo e lo tiriamo fuori e ecco la nostra maglia bassa arriviamo alla fine del giro e adesso dovete fare solo molta pratica attenzione sempre a lavorare l'ultima maglia ed ecco qui le nostre tre righe di maglie basse quando si dice fare la catenella per l'altezza è perché una catenella all'altezza più o meno simile a quella del punto basso se io non facessi la catenella per alzare il punto a parte che verrebbe male ma senza catenella per alzare il punto mi viene storto vedete invece con la catenella per alzare il punto mi viene dritto questo tipo di punto è utilizzato principalmente per la creazione dei nostri amigurumi spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale al prossimo video ciao ciao